ciao a tutti benvenuti in questa quarta puntata sui diavoli oggi vi parlerò della magia nera perciò partiamo subito con la puntata oh yeah maghi e stregoni sono sempre esistiti una volta in antichità si chiamavano sciamani ma essendo legati a divinità che sono contrari al cristianesimo tali divinità vengono considerate a tutti gli effetti dei diavoli secondo un parere abbastanza diffuso sarebbero stati gli storici a creare confusione con la loro mania di dare nomi diversi a fenomeni in realtà simili non esiste una differenza sostanziale fra stregoni preistorici sciamani siberiani maghi egiziani o babilonesi e moderni negromanti il negromante è comunque il tipo di mago sulla cui iniziazione satanica non esistono dubbi il suo nome però non viene da magia nera o negra come falsamente credono in più negromante o come si diceva anticamente necromante deriva dal greco necros che significa morto tutti coloro che erano contrari a ogni dimestichezza col diavolo per disprezzo per invidia verso chi gli era realmente amico misero infatti l'accento su un aspetto secondario delle attività negromantiche quello del traffico di cadaveri e imposero ai maghi un nome che ricordasse costantemente questa pratica così impopolare per gettare discredito sull'intera categoria ma come si fa a diventare mago necromante c'è in effetti una scuola che non è quella di Hogwarts di Harry Potter non c'entra niente le leggende dicono che la scuola per negromanti si trovi nel cuore di una montagna segreta nei monti sibillini in mezzo agli appennini in centro Italia o secondo alcuni nella foresta nera perché fu lì che si trovava il dottor Faust quando ricevette la visita di Mephistofele che però sono solo personaggi inventati chi vuole iscriversi non deve fare altro che dare fiducia alle proprie qualità intelligenza sensibilità capacità di concentrazione e di abbandono alle forze extraumane e aspettare ben presto un diavolo errante lo individuerà e gli chiederà se vuole essere ammesso al tirocinio chi riceverà il segnale e accetterà la proposta salirà su un cavallo nero e in un batter d'occhio sarà trasportato sulla riva del lago ai piedi della montagna segreta verrà accolto da un ex frate altissimo e di corporatura massiccia col corpo e il volto interamente coperti ad un saio nero di fronte a lui il giovane dovrà rinnegare la sua fede religiosa qualunque essa sia immediatamente il frate lo prenderà fra le braccia ed un balzo lo trasporterà davanti a una porta invisibile praticata nella viva roccia della montagna i battenti si spalancheranno per magia e il giovane varcherà in tutta fretta la soglia perché se non sarà più che svelto i battenti lo schiacceranno tra di loro richiudendosi subito la permanenza nella montagna dura lo spazio di un anno diabolico durante il quale lo studente di negromanzia viene iniziato a tutti i segreti di quest'arte evocazione astrologia preveggenza alchimia e tutto il resto la scuola è durissima basti pensare che la dieta quotidiana prevede unicamente una brocca d'acqua e una focaccia rafferma e che l'adepto deve progressivamente ridurre il suo bisogno di sonno a solo 7 ore alla settimana è così le sue percezioni extrasensoriali si affinano squarciando il velo della materia e facendolo penetrare nel cuore del cosmo dove piombo diventa oro purissimo lo spazio il tempo si toccano e gli astri decidono i destini dell'uomo se ci pensate è lo stesso sistema che usavano i primi abitanti del nord america ma anche del centro e sud america che si ritiravano in qualche bosco sperduto imbottendosi di peyote e aspettando l'apparizione del loro animale guida è proprio la stessa cosa la straordinaria sensibilità acquistata con questo regime e ulteriormente acuita dalla visione continua di fenomeni ultraterreni concede al futuro negromante di arrivare anche nei piaceri carnali avette mai raggiunte dei comuni esseri umani diverse volte infatti il diavolo interrompe sapientemente l'austero regime della scuola e concede agli adepti di partecipare ad alcuni dei momenti più esaltanti della vita diabolica viaggi intorno al globo terrestre festini raffinatissimi sensazioni sessuali sublimi scaduto l'anno il negromante sarà pronto uscirà dalla montagna e si ritroverà per magia sull'altra sponda del lago ingroppa al nero cavallo imbizzarrito il suo corpo divenuto affusorato e sottile per i lunghi digiuni sarà fasciato da vestiti eleganti e di ottimo taglio il suo viso reso palido e scavato dalle veglie esprimerà la forza interna dei segreti della natura che gli sono stati svelati e la borsa attaccata alla sella sarà piena di monete d'oro presagio di un luminoso avvenire naturalmente le attività principali di qualsiasi negromante sono l'astrologia e l'alchimia come astrologo il negromante si fonda sulla certezza diabolica che la chiave dell'universo è la legge dell'utilità gli astri non sono corpi celesti che assistono inerti alle sorti del mondo ma immense centrali che proiettano scariche di energia sulla terra e sugli esseri che la popolano influendo potentemente sui loro destini questa verità di cui un tempo gli adepti di satana erano i soliti positari è trapelata man mano tra gli uomini che spesso ne fanno uso improprio e volgare e satana non è per niente soddisfatto invece come alchimista il negromante va alla ricerca della purezza nella terra come nell'uomo alberga un nucleo centrale perfetto nascosto involgarito da scorie che lo rendono vive e mortale quindi il negromante passa la vita a separare il primo dalle seconde il nucleo dalle scorie attraverso una serie infinita di esperimenti nei quali una grande dottrina si all'aiuto costante delle potenze diaboliche purificare l'essere umano significa separare la sua materia spessa cioè umida e terrosa dalla materia sottile cioè aerea e secca questo processo libera il corpo dalle sue parti nocive rendendolo immune dalla vecchiaia e dalle malattie purificare la terra significa liberare i metalli che ne sono il principale elemento dal loro involucro vile e farli tornare tutti allo stato puro che è loro per compiere uno o l'altro di questi processi è necessario un catarizzatore cioè un elemento che non esiste in natura ma che bisogna ricreare ogni volta magicamente mescolando elementi diversi in armonia con movimenti delle sfere celeste e secondo i precisi dettami di satana questa misteriosa sostanza dotata di poteri soprannaturali non è mai stata vista toccata da alcun essere umano che non abbia avuto stretti legami col diavolo si dice tuttavia che sia una gemma purissima del colore del rubino chiamata pietra filosofale polverizzata serve estrarre l'oro dai metalli comuni in soluzione è più nota come elisir di lunga vita e serve a separare l'umido da secco e a rendere l'uomo immortale innanzitutto il negromante alchimista si dedica ai metalli che trova in natura sepolti nelle viscere della terra perciò attrezza un laboratorio che gli consenta di creare la pietra filosofale che gettata al momento giusto nel crociolo dove si fondono e si combinano minerali ingredienti diversi ne strarrà un oro di caratura assoluta infinitamente più prezioso di quello che occasionalmente e con grande fatica sequestrarle dalle miniere e questo viene chiamato l'oro di satana naturalmente tutte le operazioni sono basate sui ritmi astrologici scanditi dalla corrispondenza fra i sette più antichi pianeti del sistema solare e sette elementi primari dell'alchimia zolfo o principio maschile sale mercurio o principio femminile acqua aria terra e fuoco nel laboratorio dovranno trovarsi quindi i seguenti strumenti un alambicco di vetro o d'argento un acquavite ordinaria e un acquavite distillata tre volte un piccolo mantice zucchero aceto e olio di lino un mortaio di bronzo con relativo pestello brocche pentole di terra una bilancia anche spoco utilizzata forbici pinze mestoli bicchieri fiale una lima una spatola e un martello inoltre un rullo di pietra per frantumare corpi solidi e combustibile in grande quantità infine mercurio sale piombo stagno verde rame e pasta di vetro non si è sicuri se gli alchimisti usassero anche ore argento in foglie o in lingotti che probabilmente gettavano nel corgiolo con altri metalli perché l'oro avrebbe attirato per simpatia il nucleo aureo dei minerali vili facilitando l'azione della pietra filosofale ma su questo punto c'è molto disaccordo fra tutti gli strumenti dell'alchimista il più importante è l'atanor un piccolo forno sormontato da un'ampolla di vetro spesso ma trasparente chiamato aludel nell'atanor si sprigionano forze sconosciute e terribili se al momento della trasformazione non viene illuminato da un raggio di luce celeste un fulmine lo colpisce provocando la distruzione dell'alchimista dei suoi aiutanti e dell'intero laboratorio se invece il procedimento è stato corretto e le forze extraumane vi hanno collaborato i gas prodotti nel forno dalla combustione si condenseranno nell'aludel creando magicamente la pietra filosofale data la complicatezza delle operazioni che svolge nel laboratorio l'alchimista si basa sui libri ermetici che si chiamano così perché la tradizione dice che sono stati scritti da ermete trismegisto che era un saggio leggendario vissuto prima ancora dagli antichi greci venerato come gran maestro di sapienza e di arti magiche e si dice che appunto lui scrisse questi libri su cui poi si basò tutta la sapienza alchimistica fino al medioevo rinascimento e anche oltre ermete trismegisto veniva chiamato così in onore di ermes il dio diavolo greco e trismegisto perché univa la sapienza delle lettere dei numeri e della geometria molti profani hanno provato a mettere in pratica l'istruzione dei libri ma senza le conoscenze adatte hanno solo ottenuto poltiglie nauseabonde o metalli fusi inutilizzabili tanti hanno perso la vita cercare di ottenere la pietra filosofale e alcuni ci hanno perso addirittura la ragione in teoria il negromante non dovrebbe produrre oro per fini personali o per ricchezza ma per arricchire il prossimo e tutta la comunità in cui vive in realtà chi ci ha provato a farlo e magari chi ci è riuscito lo ha fatto esclusivamente per potere personale per ricchezza e le leggende dicono che tutt'oggi satana proibisca ai suoi detti di divulgare il segreto della pietra filosofale e delle lisir di lunga vita ma appunto parlando di ricchezza e avidità senza essere negromante si può comunque stringere un patto col diavolo naturalmente con l'aiuto di un negromante che conosce le formule adatte per richiamare satana o un diavolo qualsiasi e costringerlo a stringere un patto e questo è l'unica forma di schiavitù di servitù che i diavoli hanno nei confronti dell'uomo la chiave per far scattare questo obbligo inderogabile chiamata chiave piccola e quindi clavicola fu scoperta dal re salomone grazie alla sua grande familiarità con la magia nel timore che la sua morte venisse divulgata e cadesse in mano i profani salomone promise a satana che l'avrebbe seppellita con sé e così fece raccomandando a suo figlio robo amo di chiuderla nel suo sarcofago d'avorio ma qualcuno violò il sepolcro la pergamena della clavicola fu trafugata e di nascosto trasmessa nei secoli il diavolo odia tutta questa faccenda e ritiene umiliante in massimo grado rispondere alla chiamata perciò è bene non abusare della clavicola e ricorrervi esclusivamente in caso di estrema necessità per evocare il diavolo occorrono almeno cinque persone il negromante e quattro accoriti tra i quali ci sarà naturalmente colui che ha chiesto il patto costituito il gruppo bisogna procurarsi tutti gli strumenti necessari gli strumenti per l'evocazione sono numerosi e complessi a partire dal vestiario il maestro indosserà una sottoveste di nino bianca e una cappa rossa o nera di seta babbucce rosse o nere con la punta rivolta in su e avrà in capo una mitra con i simboli della luna di saturno e di venere gli accoriti avranno sottoveste di lino una cappa di lana e babbuccia puntite tutti porteranno al collo una ghirlanda di verbena e all'anulare un anello con incisi gli essenziali simboli magici pentacoli nomi divini e altro mentre gli altri saranno armati di una semplice spada il negromante impugnerà l'arteme che è lo strumento essenziale del rito dato che con esso verrà tracciato il cerchio protettivo per terra la feme è un coltello di acciaio pulissimo con impugnatura di rame che termina una sfera di cristallo dove imprigionato lo spirito servitore del maestro l'equipaggiamento è completato da altri oggetti che verranno usati nel corso del rito una lanterna con candela di grasso umano un tripode per bruciare l'incenso e un bracere di bronzo nel bracere si può usare come combustibile una miscela di legno di cipresso e di alloro con frammenti di croce e sangue di serpente oppure un impasto di sterco secco di vacca e zolfo occorrono quindi due ampolle una aperta piena di sangue l'altra sigillata piena di acqua santa in caso di estremo pericolo anche se una soluzione molto discussa inoltre servono una penna d'oca un foglio di pergamena e una quantità enorme di essenze profumi a scelta del gruppo purché violentissimi il puzzo del diavolo potrebbe stordire il negromante e impedirgli di pronunciare chiaramente le formule magiche il negromante e gli altri completamente equipaggiati si riuniscono di notte nel luogo prescelto che deve essere segretissimo e possibilmente all'aperto le migliori vocazioni che la storia si ricordi si sono svolte tra le rovine di antiche abazie o tra i dolmi incostruiti dai celti va molto bene anche un ampio sotterraneo col pavimento in terra battuta acceso l'incenso nel tripode e dato fuoco al bracere si spargono in giro abbondantissime dosi di profumo poi comincia l'evocazione il negromante traccia per terra un cerchio con l'arteme poiché il cerchio funge da schermo di protezione è molto importante che venga eseguito con tutte le regole si fa prima un cerchio esterno e poi uno interno tra cui si tracciano all'interno alcuni pentacoli e altri cerchi minori in cui si tracciano altri segni magici prima dell'evocazione il gruppo deve rifugiarsi all'interno del cerchio magico il negromante pronuncia quindi con voce forte e chiara la formula del grande scongiuro e a questo punto il diavolo immancabilmente compare e l'evocatore può scegliere fra due soluzioni la prima mette il diavolo di buon umore e consiste nel chiedergli di danzare o suonare la seconda scelta è la più impegnativa e consiste appunto nel patto appena il diavolo appare colui che vuole stringere il patto deve pronunciare immediatamente queste parole accordami in forza del patto che stringerò tutte le ricchezze di cui ho bisogno altrimenti ti tormenterò con le possenti parole della clavicola a tali parole il diavolo replica aderirò alla tua richiesta purché tra vent'anni tu mi doni il tuo corpo e la tua anima di cui farò l'uso che preferisco il negromante o l'accolito che vuole stringere il patto prende allora la pergamena e intingendo la penna d'oca nell'ampolla piena di sangue che deve essere il suo scrive prometto al grande lucifugo di ricompensarlo tra vent'anni dei tesori che mi darà a questo punto il diavolo afferra la pergamena e scompare all'interno di un fuoco enorme che si accende senza che nessuno lo abbia piccato e che illumina di bagliori sinistri la scena così il patto è concluso perché la pergamena viene messa negli archivi infernali a eterna memoria e nessuno può infrangere la promessa che vi è contenuta oltre ai negromanti che hanno frequentato la scuola della montagna ci sono anche le streghe e come si fa a riconoscerle hanno sul corpo il marchio del diavolo e usano la scopa come mezzo di trasporto aereo quando i diavoli erranti incontrano una donna specialmente se giovane bella le imprimono un marchio sul corpo premendoci sopra il loro zoccolo caprino il marchio è invisibile agli uomini ma lo si può scoprire punzecchiando la strega da ogni parte con spilloni accuminati se in un punto qualsiasi lo spillone non produce dolore e il sangue non zampilla lì c'è immancabilmente il marchio diabolico naturalmente questa è una credenza che veniva sfruttata dagli inquisitori e anche se il marchio ci fosse non è questo il modo per riconoscerlo e poi c'è la scopa i requisiti fondamentali di una scopa volante sono essere di saggina e avere il manico di salice o di nocciolo poi ci vuole l'unguento del quale ecco la ricetta strappare un pugno di piume da sotto la gola ad alcune galline e un pugno di capelli dalla testa di un cristiano unire unghie di piedi e grasso umano mischiare il tutto con sputo e acqua sporca fino a formare una poltiglia compatta dopo aver unto tutta la scopa con l'unguento ed essersene sparsa un poco anche addosso la strega esce abitualmente dalla cappa del camino che offre un ottimo risucchio raramente dalla finestra mai dalla porta le attività della strega sono assai più modeste di quelle dei negrumante in genere è una specialista di sortiregi filtri e fatture ma ciò in cui è soprattutto maestra è lo scatenamento di nevicate piogge tempeste di vento invasioni di parassiti che guastano i raccolti ed epidemie di malattie tra il bestiame dai verbali dei processi alle streghe fatti ai tempi dell'inquisizione risulta che tantissime delle cose che confessavano loro pensavano davvero di averle fatte in realtà erano allucinazioni dovuta appunto all'unguento che si spalmavano addosso soprattutto all'interno delle cosce e sulla scopa che dicevano di usare per volare perché questo unguento era fatto molto spesso con estratti di piante allucinogene come funghi amanite o funghi del genere oppure sudore il cosiddetto sudore di rospo che contiene buffotenina e sono sostanze allucinogene che provocano visioni e quindi loro tra le credenze che le erano state messe in testa dalle streghe alle streghe alle cosiddette streghe e l'autosuggestione si convincevano di essere andate davvero a sabba in presenza del diavolo quello che invece non è vero è che le streghe siano tutte brutte e cattive e mostruose anzi le streghe non sono affatto vecchie laide senza denti ma per lo più sono giovani e bellissime i diavoli erranti i più bassi nella gerarchia infernale se le scelgono accuratamente e le marchiano con un tatuaggio magico impresso con il loro zoccolo caprino streghe e negromanti hanno un appuntamento in comune per ritrovarsi tra loro al cospetto di qualche diavolo questo appuntamento è conosciuto come sabba i disinformati sostengono che il diavolo organizzi un sabba alla settimana e sempre di sabato sia per disprezzo verso il di ebraico che proprio in quel giorno si riposò sia perché negli altri giorni della settimana le streghe sono duramente impegnate nella loro attività magica in realtà i sabba sono oculatamente distribuiti durante l'anno diabolico e coincidono con alcune festività emblematiche delle religioni principali certamente non c'è più di una decina di sabba nell'arco di un anno i luoghi variano ma per antica tradizione i più frequenti sono in europa i protagonisti dei sabba sono i diavoli erranti e non cariche più alte le streghe che sono in assoluto le più instancabili organizzatrici di queste cerimonie stregoni di campagna da non confondere con i negromanti e con i maghi anche se qualche negromante va ogni tanto a qualche sabba e poi ci sono vagabondi soldati mercenari altri sbandati reclutati occasionalmente ogni tanto anche qualche farmacista medico qualche magistrato appena arrivati i partecipanti preparano un banchetto vengono serviti bollito di rospo e arrosto di carne di impiccato vino molto secco e quasi insapore durante il banchetto durante il quale nessun diavolo presente tocca nessuno degli orri di cibi serviti in tavola il capo dei diavoli domanda a ciascuno degli invitati quale misfatti abbia commesso i più attivi ricevono grandi lodi i meno solerti si prendono rimproveri e legnate poi il diavolo distribuisce le polveri i veleni e gli unguenti necessari alla continuazione delle loro attività quotidiane infine assegna ricompensi in denaro secondo un preciso tariffario che distingue le diverse specie di vittime il primo più alto viene assegnato a chi ha causato la morte di un uomo il secondo è versato per la morte di una donna il terzo per la morte di capi di bestiame infine seguono premi di consolazione per danni diversi a persone o cose un aspetto importante del sabba è il colore dei fuochi che sono chiamati fuochi pallidi per indicare il loro colore verdastro e irreale verdastri sono i farò che delimitano il luogo del convegno verdastra è la fiamma emessa dalle corna dei diavoli verdastro il fuoco sotto i calderoni e sotto agli spiedi finito il banchetto cominciano le danze che da danze normali cominciano a diventare sempre più forsennate fino a terminare in un'orgia nel loro bisogno di svago i diavoli erranti si adeguano ai macabri gusti degli uomini e di donne di scarso cervello che identificano il diavolo con un essere perverso e volgare e il cibo diabolico con repellenti brodaglie e l'estasi della danza con la frenesia e gesti scomposti ma in realtà ai diavoli tutto questo non piace è solo uno dei tanti passatempi nella loro lunghissima esistenza una leggenda diffusa in tutto il mondo parla di esseri umani che non sono diavoli ma che lo stesso si trasformano in animali principalmente durante il periodo di luna piena si trasformano in lupi e vengono chiamati bicantropi oltre a diavoli negromanti e streghe che possono trasformarsi in lupi chiunque può farlo seguendo appropriati riti e pronunciando formule appropriate trasformandosi il soggetto avrà una foltissima capigliatura occhi arrossati lingua pelosa nella parte inferiore sopracciglia congiunte resute dita e unghie lunghe tra l'altro chi ha una di queste caratteristiche anche sotto forma umana è più predisposto di chiunque altro per la trasformazione comunque chi volesse abbandonare il proprio aspetto umano per diventare lupo mannaro deve recarsi di notte in una radura molto ampia e fissando la luna piena recitare lentamente la formula magica che i ricantropi si tramandano oralmente da una generazione all'altra la trasformazione avviene durante la recitazione della formula quando anche le ultime parole sono state dette il lupo mannaro comincia la sua caccia emettendo urulati che fanno accapponare la pelle la belva scorrazzerà per tutta la notte e riavrà le soffattezze umane al primo canto del gallo non sempre tuttavia si diventa ricantropi per volontà propria può succedere anzi che bevendo acqua di un torrente o mangiando frutti di un bosco che siano stati toccati da un lupo mannaro ci si possa trasformare involontariamente quando c'è la luna piena ad haiti dove la magia nera è molto diffusa c'è un sistema ritenuto sicurissimo per scacciare i cantropi e soprattutto non fargli catturare e mangiare i neonati il sistema consiste nell'incattivire il sangue del bambino e per questo come si fa la futura madre beve un caffè amaro mescolato a tre gocce di petrolio e poi si immerge in un bagno di caffè misto ad erbe e soprattutto aglio tritato il neonato poi può essere protetto ulteriormente con una dieta base di scarafaggi fritti in olio di toro e spolverati con aglio e noce moscata al primo morso quando il lupo mannaro proverà a dentare il bambino starà male disgustato e cadrà in catalessi naturalmente queste sono tutte leggende anche perché la scienza poi ha appurato che è vero che c'è gente che sembra che si trasformi in realtà si tratta di una malattia che si chiama irsutismo che in certi casi estremi fa somigliare i malati proprio a dei veri e propri uomini lupo come quelli che si vedono nei film un'altra leggenda diffusissima in tutto il mondo è quella dei vampiri il vampiro non è altro che un cadavere di una persona che in precedenza avrebbe dovuto in teoria fare un patto col diavolo o essere stata mossa da un altro vampiro che a differenza di tutti gli altri cadaveri di notte si alza e vaga per succhiare il sangue umano e poi all'alba deve ritornare a dormire se no la luce del sole lo brucerebbe in giro per il mondo sono stati scogitati tanti modi per proteggersi dai vampiri per esempio in california ai cadaveri sospetti di vampirismo veniva spezzata la spina dorsale affinché qualora fossero tornati in vita non avrebbero potuto camminare in romagna invece le tombe venivano fortificate il sarcofago veniva coperto di massi e tutto intorno veniva sparso aglio senza economia in tutta europa più o meno lì si è sempre pugnalati al cuore con un paletto di frassino in polonia sono state ritrovate tombe con cadaveri decapitati con la testa messa intorno al cranio in bulgaria sono state ritrovate altre tombe con i cadaveri con mattoni messi in bocca in modo che anche se fossero svegliati non avrebbero potuto mordere nessuno nell'antica grecia si preferiva estrarre addirittura il cuore e bruciarlo nell'aceto in trasilvania dove il vampirismo è molto diffuso per prima cosa si decapita il cadavere poi gli si imbottisce la bocca di aglio e infine la testa rimessa nella barra che viene accuratamente sigillata altro sistema è quello di ficcare un lungo chiodo nel cranio del defunto e di deporgli sul petto un intero cespuglio di rose selvatiche in questo modo al primo movimento il sudario del vampiro si impiglierà nei rami impedendogli di alzarsi un'altra leggenda diffusissima è quella degli zombie che sono stati sfruttati per decine centinaia ormai migliaia di film in realtà gli zombie non sono quelli dei film ma proprio per niente gli zombie non sono cadaveri viventi la leggenda che poi non è una leggenda degli zombie è nata ad haiti in centro america secondo le credenze popolari haitiane alcuni sacerdoti detti bokor sarebbero in grado di catturare una parte dell'anima e detenerle in una piccola fiasca il rito produrrebbe nella vittima uno stato di retargia simile alla morte tali bokor sarebbero in grado di risuscitare la vittima anche a distanza di diversi anni dalla sepoltura restituendogli una piccola parte dell'anima sottratta tanto per renderla una schiava secondo alcune tradizioni per ingestione di sale lo zombie riacquisterebbe totalmente la coscienza spezzando definitivamente l'incantesimo in realtà gli zombie erano tutte membri del ceto povero che venivano imbrogliati era un grande imbroglio dai cosiddetti bokor gli stregoni che li inducevano a uno stato di morte apparente frettolosamente li seppellivano e subito dopo li resumavano per fargli assumere un blando antidoto che ne avrebbe ripristinato le funzioni vitali senza però restituire loro la volontà le vittime incapaci di qualsiasi resistenza sarebbero state asservite come schiavi per le piantagioni di canna da zucchero la popolazione di haiti non teme gli zombie in quanto minaccia ma teme di diventare essa stessa zombie e il sistema con cui i bokor trasformavano o magari trasformano ancora le vittime in zombie è di spruzzargli in faccia una polverina che li fa entrare in stato di morte apparente questa polvere è composta da tetradotossina estrata dal pesce palla bufotenina estrata dal rospo il veleno della glicera che è un anelli di acquatico il sedativo estratto dalla corteccia dell'albizia che è una pianta della famiglia delle mimose e i piselli che sono antidigestivi se crudi e quindi evitano che tutti questi principi attivi vengano degradati e quindi restano sempre in circolo e infine ossa di morto meglio se di strega o di bokor per vedere come andavano in realtà i fatti riguardanti gli zombie vi consiglio un film fatto molto bene di west graven che si chiama il serpente e l'arcobaleno tratto dall'omonimo libro scritto dal dottor wade davis che fu quello che andò ad haiti inviato per ricerche antropologiche dalla sua università e scoprì la formula la composizione di questa polvere che veniva usata per zombificare i futuri schiavi i futuri zombie e in questo libro e anche nel film viene descritto per filo e per segno tutta la sua storia un po romanzata naturalmente nel film però si capisce bene tutto quindi ve lo consiglio ma ritorniamo ai diavoli quando sono in giro nel loro vagabondare soprattutto i diavoli erranti è possibile che si riposino soprattutto nella lattuga ve l'avevo detto o in qualche altra verdura o sotto qualche albero o anche che stiano viaggiando sotto forma di gas nell'aria quindi basta che una persona un animale mangi quella foglia di lattuga o che magari faccia uno sbadiglio mentre passa il diavolo davanti che il diavolo gli entra nel corpo e la persona diventa posseduta adesso non sto a descrivervi tutte le manifestazioni della possessione perché le conoscete forza incredibile il soggetto che parla lingue sconosciute e piaghe addosso movimenti contorsionistici e così via a questo punto deve intervenire un esorcista che con le formule adatte e le preghiere ancora più adatte dovrebbe riuscire a scacciare il demone che si è impossessato della vittima naturalmente anche la possessione sebbene qualcuno ci crede qualcuno sia convinto di essere posseduto è una cosa basata molto ma molto sull'autosuggestione e a parte qualche esorcista fanatico anche gli altri sono concordi nel dire che è stratta di una cosa psicologica nulla di più anche se in alcuni casi nessuno è riuscito a dimostrare che fosse davvero una cosa psicologica e quindi come difendersi dei diavoli ci sono amuleti di vari tipi scongiuri di vari tipi quello più efficace è labracadabra una parola che può essere sia pronunciata ad alta voce che scritta in questo caso però bisogna stare attenti a compilare correttamente lo schema magico perché qualunque errore è una porta aperta per il diavolo per garantirsi una protezione continua alcuni fanno incidere lo schema magico su piastre di bronzo d'argento o d'oro e poi le portano appese al collo come amuleti labracadabra si può scrivere a triangolo a triangolo rovesciato ma la formula più potente è quella che unisce tutti e due gli schemi oltre all'abracadabra che è molto diffuso esistono anche numerosi altri amuleti da portare addosso i ricchi usano preferibilmente le pietre preziose incastonate in anelli e collane lo smeraldo che vanifica le illusioni dei diavoli e conserva la castità il rubino che allontana le malattie e annulla l'efficacia dei vireni lo zaffiro che conserva la pace molto apprezzati sono anche i lapislazzuli nonché l'argento che sembrano avere forti poteri contro i diavoli i poveri invece che non possono permettersi le pietre preziose si avvalgono dall'aiuto di zampe di lepre quadrifogli scarabei denti di lupo code di volpi speroni di galli e verbena per proteggere la casa è radicato il sistema di appendere alle porte ramoscelli di urivo di fico e trecci di aglio si può anche esporre la finestra una scopa rovesciata o fissare sopra il portone o all'ingresso della casa una zappa e un rastrello in croce oppure appendere un ferro di cavallo nuovo un rimedio antichissimo suggerisce di bruciare un fegato un cuore di un pece in modo che l'odore nauseabondo farà scappare qualsiasi diavolo i campi raccolti vanno ugualmente protetti non solo dalle invasioni di parassiti provocate dalle streghe ma anche dalle peste di vento di neve e di grandine utilissime sono le grandi croce di legno dalle cui braccia appendono altre croce più piccole e queste croci devono essere rette su un dosso perché siano visibili a forte distanza di uso comune poi c'è l'acqua benedetta anche se come detto non serve a niente e il sale che deve essere gettato dietro le spalle tre o sei volte oppure sparso davanti alla soglia di casa oggi vi ho parlato a grandi linee della magia nera dopo le altre puntate con la corte infernale i diavoli erranti e le abitudini dei diavoli nella prossima puntata vi parlerò dei massimi cultori di satana e della battaglia finale quindi per oggi abbiamo finito iscrivetevi al mio canale su youtube to speed music and travels attivate anche le notifiche e iscrivetevi anche al mio gruppo su facebook urbex and mystery e ci vediamo al prossimo video oh yeah oh yeah Grazie a tutti.